I due di picche, a questo punto domanda di Vito, prima di Patrizia, l'avrei preso con te qualche due di picche, no? Sì, sì, sì. Quanti? No, adesso non so, da pochi, ma sì, qualche due di picche l'ho avuto. Va bene, volevo vedere se è così, se è in mezzo a me. Ci vediamo per pochissimo con la musica live di Mec e la nostra classifica, che è in questi live.